poveri noi devo dire poveri noi perché sono tornati sono tornati in massa e ci dicono che sono felici parlo di elsa fornero parlo di mario monti parlo parlo di enrico letta oggi sui giornali e sulle televisioni ci dicono che quello che sta facendo l'europa è una cosa grandiosa allora ho letto tante aperture di credito a quello che sta facendo l'europa ho visto anche giornalisti che di solito sono molto critici dire beh non siamo ideologici non arriviamo con dei preconcetti ma io vi faccio una domanda se elsa fornero è felice se elsa fornero è felice se monti è felice se enrico letta è felice possiamo noi essere felici ecco rispondiamo a questa domanda siamo in ritardo su tutto siamo in ritardo su tutto ce lo ricordiamo casse integrazioni bassissime pochissime solo quelle praticamente in maggioranza quelle che sono state anticipate dalle aziende i 600 euro ancora quelli di marzo non sono arrivati tutti decreto liquidità ancora ieri leggeramo sui giornali che secondo questo governo è colpa è colpa delle banche ancora stanno a scaricare a fare lo scaricabarile non sappiamo ancora se i nostri figli andranno a scuola come andranno a scuola che cosa faranno mentre negli altri paesi lo sanno ancora oggi la azzolina rispondendo al question time diceva una serie di cosa sapremo i dettagli le limature le cose ma quello che a me fa paura è di aver sentito con le mie orecchie questa mattina elsa fornero dire che lei a ursula von der leyen dice brava 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 aver letto oggi sul corriere della sera che monti dice che non dobbiamo fare gli schizzinosi che non dobbiamo andare a dire a olanda a danimarca austria svezia quelli rigoristi no quelli che ancora sono lì che per perplessi non dobbiamo andare a dire noi non vogliamo le condizionalità no noi dobbiamo andare lì e dire ben vengano le condizionalità anzi le condizionalità le vogliamo dappertutto ma per cosa sono contenti poi questi perché tutto questo perché tutto questo essere felici perché secondo le euro l'europa avrebbe sparato un bazooka un bazooka di 82 milioni a fondo perduto per l'italia e 90 milioni in prestito miliardi scusate 82 miliardi a fondo perduto e 90 miliardi in prestito ma se uno va a guardare se uno va a vedere e fa i conti e fa le pulci a queste cose alla fin fine noi siamo contributori netti quindi essendo noi contributori netti noi in realtà andiamo a prenderci una ventina di scusate mi arrivano dalle telefonate una ventina di miliardi 20 tra i 20 e 25 nel corso di tre anni due tre anni perché 55 miliardi almeno non sono i nostri teniamo anche conto che con l'uscita della gran bretagna il budget il bilancio dell'unione europea si riduce e si va proprio a penalizzare due settori che per l'italia invece sono fondamentali l'agricoltura in primis ci saranno dei tagli all'agricoltura ma loro sono contenti d'altronde Elsa Fornero l'altro giorno cosa ha detto Elsa Fornero l'altro giorno ha detto che i tagli i tagli di cui si legge spigolando qui e lì spigolature perché non ne parlano tanto che le pensioni che lei ha massacrato nel 2012 vi ricordate le lacrime le lacrime della Fornero le pensioni dovranno essere ulteriormente alleggerite perché sono collegate tecnicamente al pil il pil italiano sappiamo già che avrà delle cadute il WTO il WTO già un mese un mese e mezzo fa ha detto che in questa crisi generale del coronavirus l'Italia è il paese messo peggio quello che avrà le perdite più grandi le perdite maggiori e noi siamo qui con il peggiore governo ad affrontare la peggiore crisi il peggior momento nelle peggiori condizioni e loro sono contenti e felici perché l'Europa ci dà qualche spicciolo perché diventano veramente spiccioli rispetto alle esigenze che noi abbiamo in più con le condizionalità allora noi abbiamo abbiamo le aziende che non riaprono perché dicono che probabilmente un terzo degli autonomi delle partite IVA non riusciranno a riaprire per il momento non si può licenziare ma quando arriveremo in autunno che ci saranno ci saranno i fallimenti ci saranno i licenziamenti noi avremo questi spiccioli che saremo anche obbligati a utilizzare con dei vincoli perché l'Europa ha già detto e bisogna ancora vedere se si mettono d'accordo perché quello che dice Ursula von der Leyen deve poi passare il baglio del consiglio tutti i paesi dell'Unione Europea devono essere d'accordo i diplomatici olandesi hanno già detto si vedrà si perché dobbiamo dire la nostra e noi non siamo assolutamente d'accordo ma dovremo utilizzarli per la digitalizzazione per il l'economia verde li dovremo utilizzare per l'istruzione per la ricerca perché si parla di una grande trasformazione dell'Europa allora torniamo a quell'Europa che si era ubriacata con l'economia della finanza e dei servizi e aveva distrutto azzerato invece l'economia reale quella dell'industria quella delle piccole e medie imprese ma voi sapete come facciamo noi come facciamo noi con questi spiccioli perché sono spiccioli se noi abbiamo veramente al netto di tutto quello che noi diamo una ventina di miliardi spalmati in due tre anni e che devono anche essere utilizzati sulla digitalizzazione sul green deal quello di cui si riempie tanto la bocca adesso l'Europa e non solo quello su cui è impossibile però anche no creare qual di sollevare qualche dubbio perché avete visto che il documentario di un ambientalista di un verde doc come michael moore è stato censurato perché ha osato pubblicare produrre un documentario dove si dice che c'è oggi oramai una deriva ambientalista che si è assolutamente alleata ai guru di wall street e quindi non è un ambientalismo che fa bene all'ambiente quindi alle persone ecco noi saremo costretti a utilizzare questi soldi su questi capitoli e io vorrei capire le nostre piccole medie imprese che fine faranno i nostri lavoratori che fine faranno ma Elsa Fornero è felice Elsa Fornero dice brava 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 Ursula von der Leyen brava 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 Enrico Letta dice con con questa mossa con questo bazooka con questo recovery fund recovery plan recovery qualcosa perché cambia ogni giorno anche la denominazione l'Italia è tornata al centro e però qualcuno ha detto anche che questo è il frutto dell'accordo franco tedesco allora voi mi dite che razza di Europa è questa se questo è il frutto dell'accordo franco tedesco ecco che cosa dice senza andiamo a casa della Fornero a mangiare e forse potrebbe essere una buona idea a casa della Fornero della figlia della Fornero perché credo che loro essendo tutte professoresse problemi problemi non ne abbiano ecco noi siamo in un momento in cui possiamo dire che le cose non vanno bene le cose non vanno assolutamente bene monta la rabbia ma sta montando la disperazione la disperazione e non abbiamo al momento un appiglio perché abbiamo un governo che del disastro economico e sociale che è alle porte non si sta curando affatto loro si stanno curando mentre c'è il paese che è così alla disperazione di far durare artificiosamente questo governo perché loro sanno che devono sfangarla fino ad ottobre motivo per cui non vogliono nemmeno permetterci di fare le elezioni regionali perché se noi facciamo le elezioni regionali adesso a luglio una mente fresca e intellettualmente onesta dovrebbe dire scusate ma se facciamo le elezioni regionali possiamo dunque fare anche le elezioni politiche allora no non si fanno nemmeno le elezioni regionali perché così le elezioni regionali quando le abbiamo spostate a ottobre a settembre ottobre non si potranno fare le politiche perché poi si entra in quei tre mesi in cui c'è il bilancio e quest'anno ancora ovviamente la situazione è più delicata e quindi loro se ne fanno beffe della sofferenza del paese se ne fanno beffe di quello che le persone stanno soffrendo i lavoratori ho visto questa mattina da Murano da Murano e che è un'eccellenza i vetri di Murano conosciuti e amati in tutto il mondo hanno riaperto e stanno una vetreria riaperto e sta lavorando però sulle commesse prima covid prima del covid perché adesso non è arrivata neanche una commessa e c'era una artigiana un'artista che diceva io non sto lavorando non potrò lavorare perché io lavoro faccio i souvenir per i turisti turisti non ce ne sono e comunque i negozi sono già pieni dei miei prodotti quindi io devo aspettare che ritorni il turismo che riaprano i negozi che vengano vendute le cose che i negozi hanno già acquistato da me dopodiché io potrò cominciare a lavorare e allora chiedevo una cosa semplice semplice che questo governo ci dica che noi per un anno le tasse non le paghiamo e quella cassettina di risparmi che abbiamo cerchiamo di farcela bastare per sopravvivere capite a che punto noi siamo loro di fronte a questo disastro stanno a fare i giochetti col calendario per vedere io me l'immagino Conte e Casalino lì nel loro bugigattolo che guardano il calendario e dicono no il 15 no meglio il 20 perché poi dopo così con le amministrative o quelli che hanno il secondo turno arriviamo ad ottobre e quindi ecco lì è bello fatto che noi le elezioni politiche non le possiamo fare e così tiriamo a campà loro loro tirano a campare fino a fine anno fino al 2021 ma stiamo scherzando questi stanno rovinando il paese lo stanno rovinando e poi oggi ciliegina sulla torta perché questi soldi se arrivano perché hanno giuito senza fare i conti con l'oste perché Ursula von der Leyen ha detto che mette questi soldi e vi ho già detto questi fondi 90 miliardi di prestito 82 miliardi a fondo perduto cosiddetto ma se facciamo latare essendo noi contributori netti alla fine diventano tra i 20 e i 25 miliardi in 2-3 anni quindi capite che parliamo di spiccioli per la situazione in cui noi ci troviamo ma comunque anche se dovessero arrivare perché ci vuole il vaglio devono passare al vaglio del Parlamento europeo e lì sicuramente passa ma devono passare al vaglio del Consiglio dove ci sono i capi di Stato e di Governo e ci vuole l'unanimità e l'Olanda ha già detto signori noi non siamo d'accordo l'Olanda sapete è con quel gruppo Olanda, Austria, Danimarca e Svezia che ci considerano delle cicale loro invece sono le formiche non importa se l'Olanda come Lussemburgo è un paradiso fiscale e vive dei nostri soldi portandoci via tutto quello che può portarci via vi ricordo l'agenzia del farmaco presa con un sorteggio di buste che poi le buste sono state bruciate quindi non abbiamo neanche potuto vedere se dentro quelle buste c'era veramente scritto in una Amsterdam e nell'altra Milano lo avrebbe saputo anche una valletta televisiva valletta televisiva lo avrebbe saputo che bisognava le due buste aprirle tutte e due per verificare ma invece lì no invece lì c'erano altre persone e c'erano anche persone che poi dovevano rappresentare l'Italia e invece poi sono state elette elette in Francia al Parlamento Europeo ma con la Francia bene sapete che questi sono tutti con la legion d'honore sapete che il PD è tutto pieno di riconoscimenti francesi che Ricoletta è lì in Francia a fare il professore adesso però sta tornando per dirci che questo che stanno facendo in Europa è bello bellissimo come dice Elsa Fornero che ripeto quando Elsa Fornero dice che una cosa va bene di solito gli italiani piangono perché Elsa Fornero è quella che ha distrutto le pensioni nel 2012 e ha creato delle sofferenze inaudite ed è quella che adesso ha ribadito l'altro giorno c'è un'ANSA che lo certifica che vanno alleggerite se l'economia va male le prossime pensioni saranno alleggerite ma a gioco forza va bene così perché per lei va bene così ecco allora disastro economico e sociale annunciato e loro Conte e Casalino che se ne stanno rintanati in un bugigattolo a vedere a giocare col calendario per vedere quando scavalcare l'estate di modo che loro si assicurano la sopravvivenza e la sopravvivenza di questo governo fino a fine anno allora noi siamo come ho detto in ritardo su tutto su tutto e su tutto le cose non vanno bene la gente non ha soldi il 30% delle aziende dicono non riapriranno le persone finito il periodo di divieto di licenziare rischieranno ci sarà un numero di licenziamenti dolorosissimi e loro stanno a giocare con il calendario ciliegina sulla torta ciliegina sulla torta oggi leggiamo viene riportato solo dalla verità non l'ho visto da altri oggi leggiamo che nel momento in cui ci danno le multe a due ragazzi che con la mascherina si sono abbracciati continua ad esserci questa no nonostante il calo del calo dei contagi dappertutto continuano a cercare di terrorizzarci come ha detto Derita del Censis che non è certo un pericoloso sovranista che questa politica del terrore della paura è fatto di proposito perché così aumenta il loro potere ebbene sempre in modo io sono d'accordo dobbiamo essere seri dobbiamo rispettare delle regole ma senza fare questo terrorismo che veramente è inaudito ebbene in questo momento in queste condizioni vi ricordate che non abbiamo festeggiato la Pasqua ma invece cantando Bella Ciao il 25 aprile si poteva andare in giro e si potevano fare gli assembramenti perché li abbiamo visti gli assembramenti vi ricordate che quando Silvia Romano è tornata hanno fatto gli assembramenti e lì nessuno dice nulla lì le multe spariscono ebbene abbiamo saputo che il Partito Democratico sta mettendo su una piattaforma proprio responsabile della segreteria organizzativa del PD dice che loro faranno le feste dell'unità allora sappiate che loro potranno faranno le feste dell'unità e voglio vedere allora se ci saranno i vigili che vanno a controllare i droni che si affollano sopra le feste dell'unità perché questa è una cosa scandalosa vergognosa vergognosa allora io voglio proprio vedere se avranno il coraggio come hanno scritto in questa piattaforma di fare le feste dell'unità nel momento in cui noi non mandiamo a scuola i nostri figli nel momento in cui hanno bocciato e vediamo se avranno il coraggio di andare fino in fondo anche un giorno di scuola fatto magari all'aria aperta per le classi che finiscono un ciclo perché almeno i compagni di classe si possano dare un saluto ebbene loro stanno dicendo che faranno ovviamente insicurezza ovviamente con un misto di cose che dicono perché noi dovremo valorizzare il rapporto virtuale il rapporto personale e dovremo vedere quanto riusciranno ad essere creativi ebbene loro hanno detto stanno dicendo e io voglio proprio vedere se avranno la faccia tosta di farlo se ci sarà qualcuno che glielo impedirà per pudore per decenza loro hanno detto e annunciato che faranno le feste dell'unità signori questo sberleffo ce lo vogliono servire l'ennesimo sberleffo al popolo di lavoratori di persone serie di piccoli imprenditori di autonomi di partite IVA di tutti quelli che adesso stanno soffrendo e stanno cercando di stringere i denti c'è una ciliegina sulla torta però perché adesso hanno capito comunque che tutto questo che è annunciato dall'Europa che è soltanto un annuncio fin tanto che non ci sarà il voto del Parlamento europeo ma soprattutto del Consiglio europeo dove i capi di Stato di governo dovranno dire sì all'unanimità perché ci vuole il voto di tutti e come ho detto Olanda i diplomatici dell'Olanda hanno detto no guardate noi non abbiamo proprio di queste intenzioni bisognerà discuterne questa è soltanto una proposta e vedremo bla 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 ma in ogni caso dicono e lo sanno l'hanno detto anche oggi anche i vari eletta penso che siano d'accordo anche la Fornero e Monti per quanto entusiasti questi soldi se arrivano arriveranno all'inizio del 2021 quindi ci vuole sapete che loro usano sempre l'inglese ci vuole un bridge cioè ci vuole un ponte attenzione perché quando usano l'inglese arriva sempre la fregatura allora questo bridge questo ponte cosa dovrebbe essere udite udite dovrebbe essere il mess il mess che era stato messo un po' accantonato di cui si parlava meno e poco però ma vi rendete conto che noi stiamo oramai e anche tutta l'informazione non parla più di questo di quello che sta accadendo nel mondo reale nel paese reale nelle aziende nelle piccole medie imprese perché oh noi il decreto liquidità i 400 miliardi questo bazooka non è arrivato le banche gliel'hanno detto mille volte che bastava che dicessero perché si segue tutta la burocrazia normale bastava che dicessero che per questi fondi non valgono tutte le regole precedenti solo per questi fondi e allora sarebbero arrivati alle aziende no non l'hanno fatto e quindi questi soldi del decreto liquidità continuano a non arrivare continuano a non arrivare noi abbiamo visto un retroscena in cui un funzionario diceva che la farraginosità la burocrazia è stata tenuta apposta modo da non mettere poi in realtà questi fondi a disposizione detti così sulla carta detti a parole ma impossibili da acchiappare perché c'è tutta quella burocrazia che è tipica nostra italiana bene di questo non si parla più perché adesso tutti concentrati a vedere se questi soldi europei arriveranno ma se anche arriveranno arriveranno in un paese morto disperato distrutto ammaccato umiliato offeso tradito soprattutto tradito tradito e quello che a me fa impressione è questo questo andare tutti in questa direzione senza capire che se muore quel settore dell'Italia una parte di quel settore dell'Italia che produce che paga le tasse che fa il PIL a cascata non c'è nessuno che si salva perché anche chi sta nel pubblico chi ha la pensione chi pensa di avere lo stipendio garantito perché non sta in un'azienda a rischio sarà 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 ammaccato però siamo felici perché ci dicono che probabilmente potremo andare a mangiare le salsicce alla festa dell'unità ecco io non ho più parole io non so più a che santo votarmi e guardate l'opposizione di proposte concrete serie ne ha fatte tante tante e tante e se siccome sono cose anche molto tecniche andatevela a vedere c'è un bellissimo post anche di di Giorgia Meloni c'è un bellissimo articolo di ieri sempre di lei che spiega quelle che sono le proposte del centrodestra le proposte del centrodestra di Fratelli d'Italia in particolare dai bond patriottici ai bond con perpetui o a lunghissima scadenza o questi diritti speciali di prelievo che sono del Fondo Monetario Internazionale cose molto tecniche per cui io non ve le sto a spiegare però ci sono fior fiori di economisti che le suggeriscono e che dicono che potrebbe essere un modo per riappropriarci noi del nostro debito e di non essere più impiccati a un'Unione Europea che sta perché lo dice chiaramente oggi Mario Monti andatevelo a vedere sul Corriere della Sera approfittando come lui cita Monet della crisi per far obbligare a delle scelte su cui i paesi invece prima recalcitravano e vedrete che una delle cose che spunteranno fuori saranno delle nuove tasse europee perché quando questi fondi che vengono dati a prestito dovranno essere erogati spunteranno poi queste nuove tasse europee quando parlano di risorse proprie dell'Europa sappiate che è un modo burocratese per non farvi capire che stanno pensando a nuove tasse risorse proprie dell'Europa risate le antenne perché sono nuove tasse però consoliamoci perché probabilmente il Partito Democratico riuscirà comunque a fare le feste dell'unità alla faccia di tutti noi che l'assemblamenti li dobbiamo evitare e che anche se un ragazzo con la mascherina braccia la fidanzata con la mascherina viene multato loro le feste dell'unità le vogliono fare le sapranno fare e io sono quasi sicura che le faranno buona giornata grazie a tutti